Nei giorni scorsi a Milicucco, personale della DIGOS di Reggio Calabria, del commissariato di pubblica sicurezza di Polistena, coadiuvato dall'eliquote del nucleo artificieri e della squadra mobile di Reggio Calabria, ha arrestato un 26enne incensurato trovato in possesso di 210 kg di precursori di diverso tipo, oltre ad un chile e mezzo di esplosivo già miscelato, innesche, micce ed astucci, per il confezionamento di artifici pirotecnici. Il materiale era custodito all'interno di un laboratorio clandestino ubicato nello stesso stabile, ove insiste l'appartamento dell'arrestato. La pericolosità della condotta di detenzione è stata corroborata non soltanto dalla presenza di un telecomando ad attivazione remota, nonché di un frullatore mix per la miscelazione delle sostanze, ancora sporco di residui della lavorazione degli esplosivi, ma soprattutto dalle precarie modalità di conservazione dei suddetti e delle polveri rinvenute, poiché collocati in ambienti angusti ed in prossimità di luoghi densamente frequentati, tipo un centro abitato. Per tali motivi è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, e l'interaria è stata cinturata e chiusa al traffico. Nel corso dell'attività ad esito di altre perquisizioni domiciliari è stato deferito in stato di libertà un 28enne trovato in possesso di 11 artifici pirotecnici e segnalato amministrativamente un altro soggetto di 24 anni, poiché deteneva 5,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marioana.